Il falso allarme Facebook sulle virus Evola a Lampedusa falcidia le prenotazioni turistiche. Chiesto un risarcimento danni di 10 milioni di euro. A Lampedusa i telefoni degli alberghi, dei bed and breakfast, degli affittacamere hanno squillato a raffica e gli indirizzi di posta elettronica sui computer sono stati inondati. Nell'isola grigentina tanti, tantissimi hanno rinunciato alla prenotazione. No a Lampedusa no, siamo diretti altrove. Ma perché avete prenotato? Sì è vero ma siamo preoccupati, il virus di Ebola. Ma è una bufala, non è vero? Eh sì ma la prudenza non è mai poca. Arrivederci alla prossima stagione. Che peccato, lo scherzo di un torinese di 44 anni con precedenti per schenofobia che su Facebook ha lanciato l'allarme Ebola a Lampedusa, condiviso da altre decine di migliaia è costato a caro prezzo ai Lampedusani, che adesso però pretendono un risarcimento danni di 10 milioni di euro. La comunità di Lampedusa, l'associazione Federalberghi e il consorzio albergatori hanno scatenato un'azione giudiziaria, civile e penale. Il presidente di Federalberghi, Giovanni Damiano Lombardo, tuona. La popolazione da più di un decennio si è spesa in termini di accoglienza e solidarietà verso il gravissimo flusso migratorio. Purtroppo gli aspetti negativi del fenomeno migratorio sono identificati con l'isola di Lampedusa e Linosa. L'ennesima bufala di cui un irresponsabile è stato cassa di risonanza sui social network rappresenta un altro attentato alla fragile economia di un territorio già provato. Nel frattempo al Ministero della Sanità rivelano che anche in altre zone di Italia vi sono stati allarmi per possibili casi di ebola che poi si sono rivelati infondati. Il Ministero assicura che le strutture del Sistema Sanitario Nazionale hanno gestito alcune segnalazioni di possibili casi di importazione di malattia di ebola poi non confermate dalle analisi svolte. Tutte le strutture sanitarie di frontiere e di ricovero continuano a vigilare costantemente pur nella consapevolezza che la situazione per quanto riguarda l'Italia e l'Europa resta assolutamente sotto controllo. L'individuazione dei casi sospetti dimostra l'efficacia della vigilanza italiana.